Giordana innanzitutto bentornata su All Music Italia. Ciao, grazie dell'invito. Ritorni in una situazione differente rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno c'erano tanti sogni, c'erano tanti desideri, c'erano tanti progetti. Diciamo che oggi una parte di questi progetti sono stati svelati e soprattutto alcuni sogni credo che siano realizzati. Com'è andata? Eh, com'è andata? Quanto tempo hai per parlare di quest'ultimo anno? È andata oltre ogni aspettativa. Adesso non mi ricordo esattamente cosa ti avevo raccontato, ma diciamo che il sogno era, penso, quello di fare un disco e su questo ci sono riuscita e quindi è bellissimo. L'esperienza ad Amici è stata pazzesca, formativa sotto ogni punto di vista, artistico e umano. E quindi eccoci qua, cioè sono intanto felice di rincontrarti e poi sono felice e mi sento proprio grata, tanto grata di tutto quello che mi sta accadendo. E dicevo che quello che abbiamo notato nel tuo percorso ad Amici è comunque una gran sensazione di libertà anche dal punto di vista compositivo. Tutto questo quanto ha influito sulla tua, diciamo sulla tua vena compositiva? Beh, secondo me le due cose sono strettamente correlate perché è proprio quel senso di voler dire la verità, quel senso di libertà che fa sì che mi metto a scrivere e la cosa che ritorna tanto in questi giorni negli in store perché sto facendo, sto girando un po' a tutte le città per incontrare le persone. La cosa che torna è ogni persona, non ogni persona, ma molte delle persone che incontro vengono da me e mi dicono mi sono ritrovata nella tua storia, nelle storie che hai raccontato e questa cosa per me non apprezzo perché vuol dire che la musica è andata oltre e abbiamo condiviso un momento e ci siamo sentiti tutti un po' meno soli, no? Perché alla fine quando scrivo è anche per quello, non è solo una necessità, ma è anche bello che gli altri si ritrovino in quello che uno scrive. E quindi sì, questa libertà probabilmente è stata necessaria proprio per scrivere. Sono comunque passati sette anni da quel festival di Sanremo che fu in qualche modo il tuo esordio dal punto di vista musicale e comunque già allora ci eravamo accorti di quelle che potevano essere le tue potenzialità. Forse non eri pronta dal punto di vista invece personale. Cos'è cambiato in tutto questo? Perché comunque un'esperienza come quella di Amici ti mette sotto i riflettori in praticamente 24 ore al giorno. Guarda, innanzitutto ecco, avevo 17 anni quando ho fatto Sanremo, mi sentivo grande ma ero proprio una cucciola, se ci ripenso adesso. Ho tante fragilità che ho anche oggi ma diciamo che non sapevo gestirle benissimo. Poi grazie tanto anche alla scrittura ho imparato a gestire un pochino i miei pensieri, a canalizzarli perché sono sempre piena di emozioni e anche piena di paranoia perché poi le emozioni, i pensieri portano a volte anche a farsi tanti problemi inutili e quindi la scrittura mi ha aiutato tanto a gestire tutto questo. Quindi in questi anni oltre a crescere diciamo come, tra virgolette, come scrittrice, cioè inteso che ogni giorno ho scritto, quindi mi sono migliorata, ho suonato, ho cantato, quindi automaticamente in sette anni vuoi solo che migliorare a meno che, lo so, di solito si tende a migliorare. Quindi credo che in questi sette anni oltre ad aver fatto un lavoro musicale automatico perché ogni giorno ti metti alla prova i migliori, ho fatto soprattutto un lavoro umano, probabilmente se fossi, sai ho provato tante volte ad amici dopo Sanremo cinque volte, quindi probabilmente se mi avessero preso in una delle occasioni precedenti senza il repertorio che poi ho avuto e senza la persona che sono diventata probabilmente sarei uscita dopo una settimana, cioè con la prima sfida perché non avrei saputo gestire. Io di questo sono certa e ho anche ringraziato, ho detto grazie che mi avete preso adesso perché probabilmente mi aveste preso prima, l'avrei fatto sicuramente, non sarei stata pronta, io c'è proprio questa, non so se adesso lo sono, però sicuramente prima non lo sarei stato, neanche minimamente. Noi ci siamo conosciuti da Carlo Avarello, diciamo che il suo mantra è sempre quello della credibilità e obiettivamente tu comunque nelle tue canzoni riesci sempre ad essere credibile, a volte quando canti anche o scrivi di situazioni che potrebbero anche non essere legate personalmente a te, di situazioni che magari conosci, qual è il segreto oggi, quello che hai capito comunque in tutto questo tempo nella scrittura? Ma guarda non credo ci sia un segreto, in realtà credo che se proprio vogliamo trovare un segreto quello che io mi impongo a me stessa ogni volta che mi metto di fronte a un foglio, non lo faccio per qualcuno, lo faccio per me, è di essere sincera con me stessa, di dire la verità a me stessa, di provarci perlomeno, perché non è facile dirsi tutto, cioè noi esseri umani siamo complessi, siamo difficili, siamo pieni di emozioni, a volte di cose che non ci piacciono perché non è che ci piacciamo sempre e quindi metterle a nudo è un esercizio e siccome mi ha fatto stare molto meglio, cioè ho trovato una serenità grazie a questo mi piace l'idea di farlo anche per gli altri, toccando anche dei temi più complessi, no? Perché quando scrivo, scrivo quando sono innamorata, quando soffro, ma anche quando c'è qualcosa che mi fa terribilmente arrabbiare, quindi la denuncia è una cosa che mi sta a cuore col brano sulla violenza che c'è nel disco che ho accretuto, è un esempio di un brano che non mi rappresenta, no? Cioè non è una cosa che ho vissuto io, ma mi sono messa nei panni di quella bambina lì e questo è per gli altri, anche se riesco a, in quelle milioni di persone che hanno guardato il programma, se ce n'è anche solo una che si è identificata in quella cosa e che domani farà o più attenzione o semplicemente sarà più sensibile io mi sentirò da aver fatto una cosa giusta e questo secondo me è solamente grazie al fatto che uno cerca di dire la verità, cerca di raccontare le cose per come le sente, poi chi vuole unirsi si unisce, non ho la pretesa di voler piacere a tutti, questo proprio no. Senti, diciamo che la tua scrittura è comunque molto internazionale, anche perché comunque parlando di due artisti che sono tra i più conosciuti, più venduti all'estero, tra gli italiani, Tiziano Ferro e Laura Pausini, diciamo che ti hanno dato degli attestati di stima incredibili. Tiziano, ovviamente oltre al singolo che è stato lanciato, ci sono altri tre brani del suo disco e Laura Pausini appena ti ha ascoltato ha assolutamente chiesto una canzone per il suo prossimo disco. Cosa ti rende così internazionale secondo te? Non so, non so se sono internazionale, non lo so, però la cosa che ti posso dire è che mentre tu mi racconti, cioè mi dici tutto questo, io faccio fatica a crederci, forse fra qualche, non lo so, fra qualche giorno riuscirò a capire questa cosa, non lo so, mi sembra assurdo. La cosa bella è che, ritornando alla verità, quando scrivo una canzone o quando provo a scrivere un'idea, una bozza, quel che sia, non penso mai a cosa, allo scopo per la quale la scrivo, ma semplicemente la scrivo perché ne ho bisogno. Evidentemente, siccome sono delle persone vere, sensibili, perché quando è entrata, Tiziano è un po' di tempo già che ci confrontiamo, eccetera, quindi lo sapevo già che era la persona eccezionale che è. Laura Pausini non la conoscevo, ma quando è entrata e ho visto questa energia, questa sensibilità, forse la cosa che posso pensare è che magari anche loro sono alla ricerca di questo tipo di cosa qua, e quindi è stata super carina, ha detto, dice, ma perché non mi scrivi una canzone? Io l'ho guardata e ho detto, ma ce l'hai, sai mi sono girata come a dire, ma c'è qualcuno dietro? No, no, stava guardando me e quindi dopo un po' ho detto ok, ok, sarà vero, chi lo sa. E comunque che ricevere complimenti da parte di Loredana Bertè non è proprio così scontato, eh? No, no, guarda, poi anche Loredana Bertè è stata pazzesca perché a fine puntata è venuta, a fine puntata si è spento tutto, è venuta da me e mi ha detto sei fantastica, gli ho detto tu, gli ho detto tu, cioè per me lei è un esempio proprio di libertà, rivoluzione, musica, cioè per me lei è proprio, ho detto grazie a te di esistere, che grazie a me, e quindi è tutto un sogno meraviglioso, non saprei proprio come definirlo. Beh, lei ha detto che è nata una stella, quindi riprendiamo questa frase, la teniamo tra le tante. Giordana, grazie mille davvero, avremo modo di incontrarci spesso, anche di parlare di quelle che saranno poi le date di ottobre. Sì, ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao.